Osmali quanto regna? Perché io? Perché sei per l'ennesima volta l'MVP? MVP? Oddio, credo che l'MVP è stata la squadra, no? Credo che abbiamo fatto vedere una bella pallavolo, abbiamo dato tanta continuità. Sapevamo che la squadra latina aveva un pochino in difficoltà, ma noi volevamo guardare il nostro campo, quindi dare continuità al nostro gioco e fare la nostra parte. Credo che l'abbiamo fatto senza guardare l'avvezzario e torniamo a casa con tre punti, che è quello che volevamo. Quanto vi ha aiutato il fatto che Cisterna se l'è giocata quasi armi pari nella prima parte di gara con Trent e quindi vi ha un po' aiutato anche a non sottovalutare questa partita, anche perché non siete abituati a sottovalutare nessun avversario? Sicuramente, le partite che praticamente abbiamo sottovalutato siamo andati sempre a tre a due, quindi questo è il campionato più vero del mondo, anche se la latina è ultima in classifica, ha grandi giocatori che possono giocare molto bene, quindi portare set alla pari come è stato questo ultimo set. Io non vorrei, perché non è il mio compito, parlare di loro, ma secondo me è una questione psicologica. Sai, quando tu perdi tante partite, perdi un po' la fiducia, è difficile rientrare, quindi la fiducia la dà le vittorie, perché nel momento puoi fare quello che vuoi, ma alla fine quello che conto sono le partite, però è una mia opinione molto personale. Adesso la Coppa Italia, poi questo testa a testa con il Perugia per chiudere al primo posto la regular season. Intanto la Coppa Italia, poi pensiamo a Perugia, abbiamo una partita importantissima da dentro e fuori, quella che dà la qualificazione a Bologna contro Padova, quindi non vogliamo sbagliare, sicuramente vogliamo arrivare a Bologna.